Musica Eravamo partiti un pochettino con un po' di paura perché chiaramente dopo due anni di covid dopo insomma la situazione di guerra che c'è in una parte del mondo era un po' detubanti però dobbiamo dire che invece è stata una bella ripartenza insomma ecco forse una maggior presenza di italiani rispetto magari agli stranieri specialmente la parte orientale qua però siamo stati molto contenti, moltissime enoteche, ristoratori e se non altro un po' di entusiasmo che dopo due anni serviva comunque la voglia di ripartire insomma il vino penso ha bisogno proprio di un umore, di un sentimento positivo per dare il massimo ecco questo è fondamentale A Vinitalia ha premiato due nostri vini, se volete un po' i due estremi il Riflessi che è il nostro bianco tipico laziale vicino alla costa quindi un trebbiano e malvasia fresco e fruttato e il Passito che è il Capitolium un po' i due estremi della nostra gamma l'anno scorso aveva premiato il Moscato Se quindi Vinitalia non sempre si vince ma insomma è anche la bellezza del concorso però se non altro è un'ottima cartina di tornasole col fatto del Five Star Wines e anche il punteggio che viene dato quindi uno sa che il vino ha preso il 91, 92, 93 insomma è un mettersi in gioco e un capire se si sta lavorando bene